Noto minore commette il reato di furto, misura cautelare del collocamento in comunità. Nella giornata di ieri agente del commissario di Noto hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità disposta dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Catania a carico di un giovane nettino per il reato di furto aggravato commesso pochi giorni prima del raggiungimento della maggiorità. I fatti si riferiscono alla notte dello scorso 30 agosto quando il giovane ancora minorenne si introduceva a confini predatori in un esercizio di ristorazione del centro storico della città di Noto accedendo dal cortile e scavolcando la rete di recensione. Dopo aver rivistato nei locali lo stesso si appropriava della somma di 300 euro di un telefono cellulare di 5 bottiglie di birra per poi darsi alla fuga. Gli accertamenti investigativi compiuti nella immediatezza consentivano di addivenire all'identità dell'autore del reato un minorenne con precedente di polizia acquisendo elementi di responsabilità penale a suo carico. Il GIP sussistendo gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico emetteva a misura cautelare del collocamento in comunità. Il minore pertanto veniva accompagnato presso una comunità individuata dal centro di giustizia minorile a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie.